Importante novità sull'Isola dei Famosi. A comunicarla è stata direttamente Vladimir Luxuria, infatti i telespettatori si troveranno di fronte ad un cambiamento improvviso ed inospettato. Subito si è cercato di fare chiarezza sulle motivazioni di questa variazione e ci ha pensato il sito Novella 2000 ad arrivare ad una conclusione, che per ora sembra la più plausibile. Il pubblico dell'Isola dei Famosi deve necessariamente adattarsi a questa nuova situazione, annunciata da Vladimir Luxuria nella serata di lunedì 8 aprile ma che nelle ultime ore è stata ricordata più volte dagli utenti. E c'è una ragione importante dietro questa decisione, assunta dai vertici di Mediaset, che non possono far altro che agire in questa maniera. Isola dei Famosi, l'annuncio di Vladimir Luxuria, una cosa eccezionale Quando durante l'appuntamento dell'Isola dei Famosi Vladimir Luxuria è arrivata a comunicare l'apertura del televoto, per decretare chi rimarra in Honduras e chi invece dovrà abbandonare il programma la prossima volta, ecco che è stata rivelata una novità. Una scelta in attesa, che però diventa obbligata per evitare delle sovrapposizioni negative. Questo l'annuncio di Luxuria in diretta, apro ufficialmente il televoto. Ricordiamo che il televoto è in positivo. Chi vuoi salvare? Perché sarete voi a salvare due di loro? Vi ricordo che il televoto si chiude giovedì alle ore 15 e che, giovedì sera, comunicheremo i due che avete salvato. In tanti si sono chiesti perché chiuda il pomeriggio e non nel corso della puntata serale. Ed è arrivata una spiegazione. Novella 2000 in primis, ma poi anche la pagina XTV italiana ha spiegato tutto. Il televoto dell'Isola dei Famosi chiuderà eccezionalmente giovedì alle ore 15, in quanto la puntata italiana sarà registrata. Sulla playa in diretta deve starci Supervivientes, versione spagnola NDR.